Allora, una veloce chiacchierata sui parametri operativi di CarMoveUp e la novità che è stata introdotta nell'ultima versione 1.0.3 del modalità riconoscimento attività. Come vedete, la modalità di riconoscimento attività vedete che attiva perché in alto, nell'icona con sfondo verde, adesso perché attiva, c'è l'omino che corre. Se la disattiviamo comparirà il posizionatore geografico che è poi il simbolo, diciamo, del GPS attivo, dei servizi posizioni attivi. Infatti, se cliccate su quest'icona, vi compariranno i servizi di organizzazione, la possibilità di attivarli, disattivarli, metterli a risparmio commettendo solo la... mettendo solo la Wi-Fi. Adesso, vabbè, è così. Ecco, mettiamo così. Accetto, non romperei più le scatole. Va bene. Potete metterlo a risparmio più basso, utilizza Wi-Fi e reti mobili e a questo punto chiaramente risparmiereste un po', però perdereste tantissimo in capacità di localizzazione. Ora, torniamo a noi. Il riconoscimento attività è nato dal fatto che molti si sono lamentati che il GPS consuma. Sì, il GPS consuma sicuramente tantissimo rispetto a tutte le altre cose, però è anche vero che è quello che vi dà il posizionamento più preciso. Infatti, il GPS attivo con il flag di localizzazione precisa, questo qua, vi garantisce di avere un riconoscimento, diciamo, della velocità e quindi del BT-Hong il più preciso possibile. Se cominciate a levare localizzazione precisa, se ci mettete rete Wi-Fi, dati mobili, escludete il GPS, tanto vale allora utilizzare la nuova, che vi consente un grosso risparmio, perché riconoscimento attività, fate lavorare lui in background, ci penserà lui a capire più o meno quello che sta succedendo. Più o meno, ripeto, ecco, più o meno. Sono abbastanza soddisfatto di come si è comportato, per molti che hanno solo bisogno di avere un'idea di massima che sono in macchina e quindi di attivare il Bluetooth, va benissimo. Però, appunto, proviamolo un po' tutti e sappiatemi dire. Allora, dipenderà anche molto da certi modelli di smartphone che funzioneranno peggio di altri, a questo ci sono abituato. Android è così fatto. Alcune cose vanno bene su certi modelli e vanno malissimo su altri. E pazienza. Appunto per quello ho dato tante possibilità. Andiamo nei parametri operativi, illustriamoli un attimo cos'è cambiato. Quando c'è il riconoscimento attività, praticamente, lui non considererà queste informazioni. Considererà comunque il timeout. Il timeout vale sempre, cioè dal momento in cui la condizione, in questo caso scatenante, si ferma, lui durerà ancora, in questo caso specifico, 5 minuti prima di disattivarla. Ecco, prima di disattivare il Bluetooth. Ecco, nel caso che abbiate messo, appunto, ripeto, riconoscimento attività, in tal caso non è più la velocità, il BT ON a scatenarsi, a scatenare l'azione, scusatemi, ma è la BT azione, Bluetooth azione, attività uguale azione. Quindi, per esempio, potete mettere Oncar, livello, diciamo, di confidence, beh, facciamo almeno uno. Livello di confidence, siccome ovviamente si tratta di calcoli statistici, se sono in macchina, più o meno, chi lo sa, lui dà un livello di confidence, di, diciamo, di idea di quanto, secondo lui, è precisa la conclusione che ha raggiunto. Ecco, più l'alziamo, più sarà improbabile, chiaramente che la mecceremo, con uno direi che è meglio di zero, livello da zero a cinque, e secondo me così va più o meno bene. Ecco, quindi, per esempio, in questo caso, si attiverà, quando si vedrà, lo vedete anche qui nel riassuntino, Oncar, con livello di confidenza, uno. Ok, questo è quello che volevo dire, adesso, per esempio, io l'ho messo in riconoscimento attività, Oncar, uno. Le varie cose, le noterete qui, ecco, per esempio, adesso io sto passeggiando, e infatti mi sta dicendo, un uoco, livello di confidenza, cinque, se ne accorge dai sensori, sente che ovviamente, lo sto, scrollando, camminando, capisce qualche maniera, che mi sto spostando, con il livello, diciamo, di wifi, RT mobile, o GPS, in background, quindi consuma molto meno, che sta comunque girando, e grazie a queste informazioni, io riesco comunque a tirare fuori, un'idea massima dell'attività, che stiamo svolgendo, ecco, tenete d'occhio lì con cena, quando siete in macchina, se tutto va bene, dopo un minuto, o poco più, secondo dei casi, dovrebbe comparire l'icona Oncar, e dovrebbe, attivarsi in questo caso, specifico, se appunto è Oncar, la eco, livello di confidenza, almeno uno, dovrebbe attivarsi, in Bluetooth, e disattivarsi, dopo i minuti, che sono stati messi, oppure nel caso, che avete messo le connessioni, in B2, in Time Out, e avete una connessione, Bluetooth attiva, in quel caso, benissimo, e avete un po' di più, in questo caso, a tutti i minuti, l'infermiamo, e avete un po' di più, Iniziamo,